salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi vi porto sul canale la prova del zl rc sg 108 questo drone che il fratello minore del 906 pro pro 2 comunque del 906 che però pesa meno di 250 grammi anche l'estetica è praticamente identica a quella di un mavic mini c'è anche i finti sensori qua sotto che lo riproducono comunque l'estetica è quella è disponibile sia nero che arancione link di tomtop in descrizione perché è in offerta in questo momento a circa 80 euro quindi link in descrizione se volete dargli un'occhiata cosa questo drone allora vi arriva con la valigetta come avete visto nell'intro quindi avete la valigetta con le eliche libretti di istruzione in varie lingue tra cui ovviamente c'è libretto in italiano quindi tanta roba con tutte le spiegazioni per fare la calibrazione per utilizzare il drone e i vari tasti del radiocomando quindi c'è tutto quello che vi serve poi andiamo a vedere comunque la vicino lo stesso un attimo il radiocomando radiocomando è questo è davvero compatto piccolo quando è chiuso è così quindi davvero piccolissimo basterà andare aprire le due braccia qua sotto dove poi va inserito lo smartphone per andare ad accenderlo una volta acceso accendete il drone e i due dispositivi comunicano non c'è bisogno a differenza dei suoi fratelli maggiori di andare a fare nessuna combinazione delle levette per fare l'abbinamento tra radiocomando e drone basterà accendere radiocomando il drone e loro si abbinano sul radiocomando seppur piccolo abbiamo un sacco di funzioni tutte quelle diciamo che più ci servono allora qua abbiamo il tasto del retorno to home il tasto per scattare foto registrare video il tasto per il decollo e l'atterraggio se vogliamo farlo fare in automatico il tasto del gps questo tasto è importante perché attiva e disattiva il gps cosa vuol dire che se siamo all'esterno ovviamente avremo bisogno del gps ed è importante utilizzarlo ma se siamo in casa e accendiamo il drone ci darà sì l'avvio dei motori ma quando andremo a dare gas non decollerà perché comunque non trova i satelliti quindi lui non avendo i satelliti disponibili non decolla per usarlo all'interno quindi in un'abitazione comunque in zone dove non c'è il gps basterà cliccare il tasto gps andremo a disattivare il gps e quindi lui userà solo l'optical flow perché questo drone ha il gps e l'optical flow quindi oltre alla bussola e tutto il comparto imu diciamo a cui siamo abituati con tutti gli altri droni però ovviamente non ha nessun sensore sotto a solo l'optical flow quindi i tasti che abbiamo elencato fino adesso sono questi poi qua abbiamo due tasti che ne fanno salire e scendere il gimbal sì perché questo drone ha un gimbal di ingrinazione della fotocamera perché il gimbal è inesistente ovviamente è finto non funziona ma non funziona è finto l'unica cosa che ha ed è funziona è l'inclinazione della fotocamera dal radiocomando quindi usando questi due tasti inclineremo la fotocamera su e giù ovviamente a scatti perché anche i suoi fratelli maggiori non hanno la rotellina come hanno tutti i droni ma hanno i tasti e sta cosa non la capisco perché devi mettere questi tasti che anche se dovessimo montare un gimbal fantastico anche se qua non c'è i tasti faranno sempre fare uno scatto alla volta al movimento quindi va beh però stiamo parlando sempre di un drone da 80 euro quindi gimbal o meglio fotocamera che si muove con i tasti poi qua abbiamo il tasto che regola la velocità quindi abbiamo tre velocità disponibili lenta media e veloce che dopo le vedremo nella prova quindi vi farò vedere come viaggia questo drone nella velocità massima e come nella velocità lenta per principianti o per fare magari zone un po' magari dove ci sono alberi piante e muoversi in maniera più lenta non è che mettendo lento o veloce la qualità video migliori è sempre scarsa rimane dal punto di vista della stabilizzazione ma quello poi ne parliamo tra poco poi e qua abbiamo il tasto che per fare la calibrazione della bussola allora veniamo alle caratteristiche pure del drone allora il drone monta una fotocamera che è in 4k ma non è 4k ovviamente come tutti i droni lo costa il 4k è sulle foto viene dichiarato 4k perché fa bello scrivere sulle confezioni ma se poi andiamo a vedere i video i video sono in 2,7k le foto sono con una risoluzione in 4k ovviamente qua la nota dolente ve lo dico subito è la qualità video o meglio la qualità della stabilizzazione video perché la qualità video secondo me non è neanche male però non è per niente stabilizzata è stabilizzata zero quindi è inutilizzabile quindi ve lo dico subito le foto invece sono sia di buona qualità che ovviamente vengono anche bene dal punto di vista della risoluzione e della stabilizzazione un altro difetto che ha o limite che ha che non ha uno slot per la micro sd che non servirebbe poi neanche a niente ragazzi ve lo dico perché anche se avessimo una slot micro sd ma poi abbiamo dei video non stabilizzati a che cavoli servono a niente cioè sono sempre video che non utilizzeremo mai e per le foto va bene che la foto venga salvata nello smartphone direttamente quindi sarebbe stato inutile mettere uno slot della micro sd tu so che tanti dicono è calo ma la micro sd si ho capito ma se non c'è una stabilizzazione video è inutile avere uno slot della micro sd tanto i video non si utilizzeranno mai perché comunque viene il mal di pancia a guardare un video non stabilizzato anzi viene un senso di nausea di giramento di testa probabilmente a guardare un video non stabilizzato poi la durata delle batterie loro la danno per 32 minuti perché abbiamo delle batterie che sono queste agli ioni di litio praticamente come le batterie delle mavic mini per intenderci non sono batterie lipo ma sono batterie agli ioni di litio vengono date per un'autonomia di 32 minuti ma secondo me arriva intorno ai 20 giù di lì però sempre tanta roba e stiamo parlando sempre di un drone da 80 euro quindi tanto divertimento poi cosa dire ancora l'applicazione l'applicazione h fan plus la stessa dei suoi fratelli maggiori è un'applicazione ben fatta piena di funzioni tante non funzionano di funzioni sembra un gioco di parole ma così ha tante funzioni ma che tante poi non funzionano però dal punto di vista dell'utilizzo sulla sicurezza di volo sì l'applicazione che funziona che non siete obbligati a utilizzare potete utilizzare tranquillamente il drone con il radiocomando e basta poi se volete usare lo smartphone adesso quando poi facciamo la prova vedete come connetterlo e tutto però sappiate già che potete utilizzare il drone anche solo con il radiocomando l'applicazione come vi ho detto è ben fatta però tante funzioni come anche per i suoi fratelli maggiori sono più che altro di bellezza non pratiche però quello che è importante ragazzi in questi droni da 80 euro che hanno il gps che fanno foto fanno video autonomia abbastanza importanti dal punto di vista delle batterie e tutto è la stabilità e la sicurezza di volo importante quello perché tanto un drone così lo compra o un ragazzino o comunque uno che vuole approcciarsi al mondo dei droni e vuole capire come utilizzare un drone per poi passare a un drone più diciamo costoso e performanti dal punto di vista qualità video e foto però questo dronino ragazzi vola che è uno spettacolo vola vola bene ma non bene benissimo da pilotare sembra quasi di avere in mano il Mavic Mini non solo dal punto di vista estetico ma anche della sensibilità nell'utilizzarlo non dico che è uguale ma ci va molto vicino cioè è piacevolissimo da pilotare è una cosa incredibile poi col discorso delle tre velocità vi aiuta tanto ovviamente nella velocità quella più spinta va anche di bestia cioè ragazzi è bellissimo poi lo vedremo tra poco nella prova tanta tanta roba quindi ragazzi penso di avervi detto più o meno tutto per quanto riguarda questo piccolo drone della ZRC che pesa 249 grammi quindi tutti i vantaggi di un drone che pesa meno di 250 grammi dal punto di vista dell'utilizzo della burocrazia non serve il patentino quindi tanta tanta roba e poi un costo davvero accessibile quindi ragazzi vi ricordo che c'è il link in descrizione se volete dargli un'occhiata dell'offerta di TomTop che è circa di 80 euro non so quanto durerà durerà qualche giorno quindi affrettatevi quindi ragazzi direi di non perdere il tempo e partiamo in questo test con lo ZLRC SG108 partiamo ok ragazzi tutto è pronto il drone e il radiocomando sono collegati come vi ho detto si connettono tra di loro quando andiamo a accendere il radiocomando si connette al drone non bisogna fare nessuna operazione con i joystick di abbinamento quindi basta entrare nelle impostazioni selezionare la rete wifi che è creata dal drone quindi vedete M8 5G 4K quindi andiamo aprire l'applicazione H Fan Pro facciamo start fare prepare to fly calibration così ha calibrato i sensori però non sono in una posizione molto sottopiana speriamo che li abbia calibrati bene e adesso va fatta la calibrazione della bussua quindi facciamo ruotare il drone come ci indica l'applicazione perfetto adesso lo facciamo ruotare in questa maniera perfetto le calibrazioni sono fatte confermiamo ed ecco qua che il drone è pronto al decollo quindi abbiamo 11 satelliti direi che possiamo anche decollare abbiamo anche ritorno video nello smartphone in HD infatti vedete come si vede bene accendiamo i motori facciamo partire l'SG 108 ok sto allora con i tasti che abbiamo qua facciamo inclinare la videocamera quindi possiamo inclinare su e giù ovviamente va a scatti perché aspettate che mi giro però che sono anche un po contro sole quindi ok adesso sono inquadrato dal drone quindi con i tasti possiamo inclinare il gimbal però non ha nessuna stabilizzazione allora ragazzi l'overing è davvero pazzesco secondo me è incredibile a 9 sono mai precisissimo e vi garantisco che ce l'ha anche in casa sebbene qua siamo all'esterno quindi usa sia gps che diciamo l'optical flow cioè la fotocamera che ha sotto alla sua pancia l'overing è perfetto ma anche in casa che comunque con la luce che c'è in casa che è sempre scarsa e ovviamente gps che non prende anzi è disattivato assolutamente non possiamo utilizzare questo drone se non lo disattiviamo col tasto di col tasto appunto per disattivare gps usare sull'optical flow ragazzi vi assicuro che anche in casa è incredibile proviamo a vedere se quanto vuole tenere la posizione sentite come si arrabbia guardate come si arrabbia vediamo se torna e ritorna da dove l'ho tolto cioè ragazzi è cattivissimo eh guardate quanto diventa cattivo cattivo e ritorna però da dove l'ho tolto eh proviamo a toglierlo un po' di più vediamo cattivissimo cattivissimo oh e là guardate come torna opla no allora dal punto di vista della stabilità e del volo incredibile peccato che abbiano davvero eh messo una telecamera stabilizzata proprio zero 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 attualmente è in offerta intorno agli 80 euro eh quindi un drone sotto i 250 grammi eh con un'autonomia di batteria che dovrebbe arrivare a me dichiarata 32 ma saranno 20 25 anche solo 20 tanta roba un gimbal non stabilizzato però con una fotocamera inclinabile dal radiocomando direi tanta roba per questa fascia di prezzo è un drone che si può utilizzare ovunque appunto per il suo peso o quasi ovunque diciamo così allora proviamo a vedere come si comporta il drone registriamo anche il video così vediamo poi la stabilizzazione che non esiste ve lo dico subito vediamo come vola il drone il drone è bellissimo eh ragazzi il drone vola vola bene eh così siamo nella modalità volenta forse proviamo a cambiare ok proviamo così sì così è più performante vediamo se ha un'altra modalità sì guardate come viaggia adesso tanta roba eh mamma che bello che è sembra di allora come eh sensazione di volo assomiglia tantissimo al Mavic Mini davvero è davvero molto simile non è uguale ma simile dal punto di vista del sentire il drone in mano davvero tanta roba adesso rimettiamo la velocità lenta con questo tasto andiamo a diminuire infatti vedete adesso che va più piano molto più piano che si sono su a manetta tre velocità vedete che il video ragazzi è stabilizzato proprio niente è praticamente stabilizzato zero eh proviamo a scattare qualche foto invece vedere le foto che secondo me le foto le fa davvero bene proviamo giriamoci qua che c'è tutti i colori dell'autunno foto ok la sta salvando proviamo a farne una di qua foto secondo me le foto sono davvero buone perché comunque vi ricordo ragazzi che 4k è sulle foto come tutti i droni economici 4k non è mai nel video il video a 2,7k 4k è sempre solo sulle foto questo in tutti i droni e anche in quelli economici un po più costosi di quello sono sempre dichiarati 4k ma ha solo a livello di foto quindi riprendiamo il video vi ricordo che il video è direttamente nello smartphone non ha una micro sd tanto con la stabilizzazione inesistente i video non servono praticamente a niente e per fare le foto la micro sd non serve basta avere la foto direttamente nello smartphone quindi serve davvero a poco allora proviamo a cambiare la foto allora proviamo a cambiare la modalità di volo mettiamo quella performante ci allontaniamo guardate come viaggia bene cioè a parte a parte la stabilizzazione che è inesistente però il drone vola vola bene ragazzi è bellissimo da pilotare bellissimo proviamo andare un po in alto siamo ad un'altezza di 40 metri andiamo ad un'altezza di facciamo 60 metri mi allontano ok il ritorno video se n'è già andato a ramengo il drone invece se gli do gas se ne va ma ritorno video già se n'è è andato e quindi un ritorno video che è davvero scarso quindi siamo a 154 metri mi allontano ancora ma lo sto vedendo a occhio non non c'è il ritorno video si è già bloccato siamo a 270 metri proviamo a fare un return to home quindi going home vediamo come e dove si posiziona l'SG 108 allora ragazzi ecco che il ritorno video l'ha recuperato se n'era andato adesso è ritornato sta tornando vediamo il suo comportamento dal punto di vista dell'atterraggio e di quanto sbaglia il landing anche se è una cosa giusto per non mi aspetto grandi cose ma basta che si avvicina e ritorna da dove è partito poi va sempre bene quindi aspettiamo che faccia il going home ha trovato la posizione sta atterrando vediamo sta arrivando piano piano vediamo di quanto sbaglia ero ad un'altezza circa di 70 metri mi sembra forse qualcosa di più non mi ricordo neanche e a una distanza di 270 metri e vediamo come si comporta allora vediamo sta arrivando dov'è che se ne sta andando ok perfetto allora sta atterrando nell'erba è atterrato nell'erba allora vediamo di quanto ha sbagliato 1 2 metri dai ragazzi 2 me per un drone che costa circa 80 euro in questo momento su tom top ragazzi direi tanta roba dal punto di vista del ritorno a casa ok ragazzi allora avete visto il comportamento del drone la stabilità di volo il return to home tutto perfetto ovviamente avete visto anche però che scarsa è la stabilizzazione video praticamente inesistente e inutilizzabile una cosa che ho poi non mi è piaciuto tanto che la disconnessione video avvenuta molto presto non sono arrivato neanche ai 250 metri quelli che ci permette la legge di volare come distanza quindi si è disconnesso prima dal punto di vista video il radiocomando no quello continuava infatti sono andato a 250 metri tranquillamente infatti anche il return to home loro lo danno per 600 metri però il ritorno video avete visto che ce l'avete solo se state vicini secondo me intorno ai 100 metri 150 non di più poi lo andate a perdere invece il drone quello se ne va tranquillamente avete visto anche il return to home preciso ritornato sbagliato di un paio di metri tanta roba poi sicurezza di volo tutto però i video ragazzi non prendetelo per fare video le foto ci stanno avete visto che le foto secondo me ne ho scattate un paio e secondo me non sono venute niente male però i video anche no è una cosa che mi sono dimenticato di dire all'inizio del video che il radiocomando ha delle batterie ricaricabili al suo interno quindi non come di solito siamo abituati con i droni di low cost che dobbiamo inserirci le batterie come anche il suo fratello maggiore dobbiamo metterci delle batterie stilo noi qua invece abbiamo una presa micro usb e abbiamo già all'interno delle batterie ricaricabili quindi una cosa in più per un drone che costa comunque circa 80 euro quindi ragazzi ditemi voi cosa ne pensate valutate sempre tutto nella sua fascia di prezzo perché costa 80 euro quindi valutate sempre tutto in quello e ditemi cosa ne pensate ditemi cosa ne pensate del colore arancione però è disponibile anche nero a me arancione piaceva perché almeno va un po fuori dalle righe anche se autelivo è arancione però ci sta un colore un po diverso dal solito nero o bianco o grigio in cui vengono fatti i droni quindi ragazzi mi raccomando scrivetemi la vostra opinione come avete visto il drone non a qualità video perché è inutile neanche starla a discutere ma dal punto di vista del volo della stabilità return to home tutte queste cose nei suoi 80 euro quindi ragazzi se tutto questo vi è piaciuto ed è stato interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove ho portato tante cose in anteprima anche questo è arrivato su instagram prima di arrivare qua su youtube e iscrivete al mio canale telecom offerte per sostenere il canale se non l'avete ancora fatto mi raccomando fatelo così sostenete il canale però ragazzi mi raccomando iscrivetevi a questo canale per non perdervi neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial o una novità ciao